Ciao a tutti ragazzi, sono Valerio Novara di Fage Network. Oggi vi voglio parlare di The Father, uno dei film che ho apprezzato di più candidati agli Oscar di quest'anno. Il film è di Florian Zellet ed è preso da una rappresentazione teatrale. Nel film ci sono un grandissimo Anthony Hopkins, un Anthony Hopkins in forma strepitosa, e Olivia Colman. Entrambi sono stati premi Oscar. Il film vuole parlarci e farci vedere il mondo con gli occhi di una persona anziana alle prese, con i primi effetti della demenza senile e in qualche modo anche del morbo di Alzheimer. È una situazione che può capitare tantissimo a tantissime persone nella vita quotidiana ed è una situazione che non era mai stata mostrata in questo modo. Perché se da una parte noi appena magari vediamo la locandina con questi Anthony Hopkins seduto sulla poltrona, la figlia Olivia Colman che gli tiene la mano e sembrano parlottare, no? Io mi aspettavo di vedere un film con lunghi dialoghi e magari il senso della vita, dei ricordi anche di un uomo che racconta sua figlia e il suo passato. Invece sono rimasto sorpreso perché tutto nel film punta a disorientare e quindi a farti entrare al massimo nella mente di una persona anziana che piano piano sta perdendo la memoria e che non riconosce più nemmeno i suoi familiari. Il film, partiamo dall'interpretazione degli attori. Anthony Hopkins straordinario, l'ho apprezzato tantissimo in una parte in cui ha anche dei momenti in cui lui fa quelle espressioni facciali in cui ti mette anche un po' di paura, nel senso il classico padre anziano che non vuole l'aiuto di un abbadante che la figlia Olivia Colman cerca di prendergli per aiutarlo nelle faccende di casa. Emblematica la scelta di un montaggio e una scenografia che sono stati determinanti per farti entrare al massimo nella mente del protagonista. E la colonna sonora, scusate. non dimentichiamo che la colonna sonora è affidata alle musiche del nostro Einaudi. Quindi una colonna sonora pazzesca. Io credo che il montaggio, messo in modo che il protagonista si ritrovi inizialmente, questo diciamo va di pari passo con la scenografia, ora ci arriviamo, si può dividere in tre parti il film. Inizialmente il protagonista si trova nel suo appartamento, nel suo appartamento di Londra dove vive solo, dove la figlia Olivia Colman gli fa la spesa, lo va a trovare e cerca anche di proporgli delle ragazze, delle persone per fargli l'abbadante che lui inizialmente rifiuta. Dice posso farcela da solo. Le classiche risposte poi, se ci pensate, dei nostri anziani che non vorrebbero mai essere tra virgolette io dico commissariati perché poi si sentono anche un po' in imbarazzo. Perché dicono fino adesso ce l'ho fatta, perché adesso non dovrei farcela e perché dovrei aver bisogno del tuo aiuto. rispondendo anche a volte male ai propri figli. Ci sono delle scene in cui Olivia Colman si mette addirittura a piangere per alcune risposte molto brusche che gli dà il padre e si tende poi, da genitore si tende a trattare male il proprio figlio che invece sta facendo di tutto per il tuo benessere. e le parti un po' si invertono, no? Perché se ci pensate, quando si è piccoli ci si prende cura del bambino, del figlio che è piccolo, da grandi, è il figlio che si prende cura dell'anziano genitore. E ho trovato nella scenografia, divisa appunto in tre parti, quello che poi è il disturbo tra virgolette della mente di Anthony Hopkins, del protagonista anziano. Inizialmente lui si ritrova nel suo appartamento per poi ritrovarsi all'improvviso una persona estranea. Anche lo spettatore non sa, a un certo punto c'è questa scena che lui sente suonare, aprire, no, sente aprire la porta e va in sala da pranzo e trova quest'uomo seduto come se niente fosse in casa sua e gli chiede tu chi sei? E quello dice ma come ci sono? Sono il marito di tua figlia, eccetera, eccetera. Beh, noi siamo, lo spettatore viene catapultato in un una mente che dimentica la memoria a breve termine, ma che per esempio nel momento in cui la figlia poi cerca di portarlo, nella seconda parte si trova a casa della figlia perché la figlia se lo porta poi a casa non potendolo più lasciare da solo perché potrebbe essere pericoloso lasciare una persona che comunque sta perdendo dei colpi da sola in casa fino a ritrovarsi nella terza parte in una casa di cura, in una casa di riposo. E emblematico il fatto che queste persone anziane, e il film poi ce lo racconta in un certo senso, ricordano alcune cose alla perfezione. Quando la figlia porta il padre ad iscriversi, ad entrare in questa casa di riposo e l'infermiera gli chiede quando è nato, lui gli dice la data di nascita, tipo 15 agosto del 1917, alle ore 18. E quella gli fa, alle ore 18, come ti ammazza, ti ricordi pure l'ora in cui sei nato, eppure non ti ricordi cosa ti sei mangiato stamattina, per dire, o quello che hai fatto ieri, o le persone che ti vengono a trovare, come tua figlia. E infatti in alcune scene cambia addirittura il personaggio che interpreta la figlia, per non lasciare scampo a noi e trasportarci con tutta la crudeltà registica possibile nella mente del protagonista, che comunque noi ci ritroviamo che a un certo punto, sempre dal punto di vista dell'uomo, del signore anziano, apre la porta una donna, che non è più Olivia Coleman, ma è un'altra persona, è un'altra donna. E lui giustamente dice, tu chi sei? E quella risponde, sempre tua figlia. Oppure quando lui cita l'altra figlia. Però poi Olivia Coleman dice, no, non c'è più l'altra tua figlia. Quindi è un susseguirsi nella scenografia, quindi nel ricreare prima la casa dell'uomo di Anthony Hopkins, poi la casa della figlia, e infine la casa di riposo, dove ci sono dei momenti anche molto commoventi. Perché se ci pensiamo dal di fuori è facile dire, ma come ti ricordi che so io a un genitore anziano, molto più difficile capire che per loro è come se in alcuni momenti fossimo altre persone, fossimo degli estranei. E qui la bravura pazzesca dell'attore è venuta fuori in tutta la sua efficienza. Come dicevo, il montaggio, il montaggio alternando queste scene a ricordi del protagonista a momenti in cui non si ricorda nemmeno dover, si trova spaisato, oppure racconta di aver fatto il ballerino di Tip Tap quando era giovane, il montaggio hanno reso anche il film molto più dinamico di quello che magari inizialmente uno poteva pensare vedendo La Locandina e iniziando a vedere il film. Film che ho apprezzato tantissimo e i due attori tengono in piedi l'intero film, ma in particolare Anthony Hopkins che è stato pazzesco, ripeto, pazzesca la sua interpretazione di quest'uomo che non vuole darsi per vinto, non vuole accettare il fatto che abbia bisogno d'aiuto, che a un certo punto della nostra vita noi abbiamo bisogno d'aiuto. E chi, se non i nostri figli, attraverso poi delle persone che ci vengono proposte, che possono essere delle badanti, c'è questa ragazza che comincia a parlare con lui e lui inizialmente sembra fidarsi dopo comunque averne scartate diverse e racconta e si sente quasi abbandonato. C'è una scena iniziale del film che dice alla figlia, tu vuoi abbandonarmi, so già dove vuoi andare a parare, pensi che io non ce la faccia più a stare da solo perché ti vuoi sbarazzare di me. Ed è un colpo al cuore, ed è un colpo al cuore per qualsiasi figlio sentire il proprio genitore pronunciare parole di questo tipo. Voglio sapere quello che pensate voi, quindi mettetemi qui sotto nei commenti il vostro parere su The Father con Anthony Hopkins e Olivia Colman. Io vi aspetto domenica 25 aprile dalle 22.30 su Twitch, canale di Fage Network, per una maratona in attesa della notte degli Oscar con tantissimi ospiti. Commenteremo Red Carpet e premiazione. Vi aspetto, ciao!